Ho una proposta da farti. Posso solo immaginare quello che hai passato in questi giorni. Quindi se ancora non vuoi che gli spari, non ne parliamo. A meno che tu non abbia cambiato idea su Massimo. Nazio, tutto quello che è successo in Sicilia è successo per causa mia. Ho creduto a Massimo, tutte le sue bugie e ti ho messo in pericolo. Cica, mi dispiace. Al matrimonio di Olga, quando mi hai riattaccato il telefono, non sapevo cosa fare perché pensavo davvero che volessi tornare con lui. Marcello, Nazio Matos, io sono follemente innamorata di te. E quello che è peggio è che ogni giorno mi innamoro sempre di più di te. Non posso farne a meno. È colpa tua, Nazio. Chica, cosa ha detto il dottore? Sei incinta? Nazio, purtroppo potrei essere incinta di Massimo. Me ne occuperò domani e tra due giorni sarà finita. Te lo prometto. Aspetti, aspetti, cosa? Quella settimana? Sì, più o meno la settima. Oh mio Dio, quella settimana il bambino allora non è di Massimo. Nazio è il padre.